ciao sono gabriele medeotta ti do il benvenuto in questo nuovo video nel quale ti parlerò dei contenuti gratuiti della possibilità di scaricare i contenuti gratuiti e soprattutto ti dirò perché potresti valutare e pensare la possibilità di abbonarti a un canale come questo che stai guardando proprio il canale di gabriele medeotta i contenuti gratuiti che trovi all'interno del canale sono davvero tanti ci sono oltre 250 video ci sono tantissime dirette ci sono alcuni materiali scaricabili e questo è il frutto di ormai tanti anni di lavoro che io insieme al gruppo di persone che mi aiuta nel costruire insomma tutto ciò che ha a che fare con l'ambito della divulgazione e della formazione in ambito musicale creiamo e carichiamo in questi anni il canale è cresciuto davvero tanto e sono tante le persone che continuano a scrivere e a scrivere messaggi a mandare email nella quale nelle quali mi chiedono spesso volentieri di ricevere ulteriore materiale e credo sia importante per me farlo e soprattutto per la community poter contare su questo materiale per questo motivo il canale continua a lavorare per questo motivo sul canale continuiamo a caricare contenuti e continueremo a farlo ma proprio per poter lavorare perché questo è il nostro lavoro per fortuna un magnifico lavoro ma rimane un lavoro appassionante se vogliamo sotto tutti i punti di vista e proprio per questo motivo ho deciso di creare un ulteriore livello all'interno del canale senza che nulla cambi di tutto ciò che c'è fino a questo momento un livello nel quale se lo desidererai potrai semplicemente accedere a tre diversi livelli di abbonamento sono tre abbonamenti che hanno lo scopo di sostenere questo canale in maniera diversa e di sostenere il lavoro che viene fatto come ti dicevo all'interno di questo canale e dietro alla macchina da presa questi tre livelli li ho chiamati con tre parole che identificano molto il mondo della musica il primo livello si chiama fan il livello per chi vuole sostenere il canale come tantissimi di voi stanno facendo e come tanti di voi con mio piacere devo dire la verità e con grande gratitudine insomma ve lo voglio dire mi chiedono c'è la possibilità la possibilità di sostenere con delle donazioni il canale allora il livello fan è un po quello un livello che ha una possibilità di avere delle risposte immediate ai commenti chi di voi scrive commenti nei miei canali nel mio canale e siete tanti sa che io rispondo fondamentalmente quasi sempre o nel giro di poco qualche volta è scappato qualche messaggio però in linea di massima credo di poter dire di poter affermare che le risposte arrivano la problematica se possiamo parlare di problematica è che essendo sempre di più quelle quelle domande quelle richieste quei commenti non sempre riesco con la puntualità che vorrei avere a rispondere a tutti ecco perché con il livello fan uno entra in contatto ancora più diretto commessa che nel momento in cui mi fa una domanda sotto a un video o lascia un commento di un certo tipo sa che riceverà una risposta in tempo quasi reale una un modo per me è importante per poter garantire quelle risposte e per assicurarsi di avere quella risposta da parte di chi desidera con un piccolo sottoscrivendo una piccola cifra di abbonamento che sono 3 euro e 99 al mese rinnovabili se lo volete rinnovare altrimenti no si può appunto iscrivere e sostenere diventare fan del canale fan della musica poi c'è invece un livello centrale che il livello musico mi piaceva dare questo nome perché ha a che fare con il lavoro che noi facciamo e con quello che siamo musicisti cioè siamo dei musici siamo delle persone che lavorano nell'ambito della musica che operano agiscono si divertono e si appassionano con la musica e quindi ho pensato magari a qualcuno l'idea di diventare e di sottoscrivere un abbonamento musico potrebbe piacere 4 euro 99 al mese se lo vorrete rinnovare altrimenti no non è nessuno c'è nessun problema per poter accedere alla registrazione della ad esempio diretta ora questa è una cosa importantissima voi sapete che io ogni settimana per molti molti mesi addirittura per un paio di anni ho fatto una diretta tutti lunedì la famosa diretta del lunedì siete in tanti eravate in tanti continuate ad essere in tanti quella diretta amici miei resta non cambia se voi vi collegherete nel giorno della diretta vedrete sempre la diretta potrete interagire sicuramente con la diretta con me in diretta potrete probabilmente ricevere delle risposte qualora io riesca a farlo ma quella diretta resterà visibile resterà caricata solo per gli abbonati perché se vorrete rivedere quella diretta o se ve la siete persa e l'argomento di interessa allora sicuramente può essere di vostra utilità quella di andare a rivedere la diretta nella diretta oltretutto sapete bene che abbiamo sempre fatto molti esercizi e spesso non sempre li avevo caricati per poter di scaricare ecco questa diventerà una caratteristica proprio di quell'abbonamento l'eserciziario avrete gli esercizi con l'abbonamento musico potrete scaricare liberamente gli esercizi che caricherò sotto alla diretta che sarà visibile solo per gli abbonati una volta che la diretta è stata mandata in onda quindi la diretta del lunedì qualora fosse di lunedì sarà visibile da tutti se vi collegherete in quel momento ma al termine della diretta quella diretta sarà caricata con gli esercizi e con tutte le informazioni con tutti gli esempi solo per quelli che sono abbonati a livello musico naturalmente valgono sempre i vantaggi benefici diciamo così dell'abbonamento precedente quindi la risposta prioritaria ai commenti poi c'è l'abbonamento di terzo livello l'abbonamento che ho chiamato crew perché creo perché crew e il modo tecnico per chiamare il gruppo di lavoro quando io penso di fare un nuovo contenuto quando penso di fare una nuova iniziativa e quando voglio scegliere quali sono le migliori attività da provare a inserire all'interno di queste iniziative mia solita norma confrontarmi con il gruppo di lavoro e parlare discutere e valutare quelle che possono essere le migliori strategie se sottoscriverai l'abbonamento crew entrare a far parte di quel gruppo parteciperà in maniera diretta ai sondaggi che noi facciamo per cercare di capire quali sono le migliori indicazioni da seguire potrai tu stesso proporre delle cose e avrai un altro elemento importante che i video in anteprima noi caricheremo dei video come abbiamo sempre fatto io caricherò questi video che realizzo nel corso delle settimane e che spesso sono realizzati in funzione di quei sondaggi e di quelle analisi che noi facciamo ai quali potresti partecipare se sei nella crew e avrai di diritto la possibilità di guardarti in anteprima e via totalmente privata quel video che poi successivamente sarà caricato ecco questi sono tre livelli di abbonamento quindi livello fan nel quale avrai come ti dicevo il risposta prioritarie e sai saprai di essere parte integrante nella costruzione di questo canale che serve chiaramente anche a te il livello musico nel quale potrai accedere a una diretta caricata successivamente in maniera esclusiva e potrei soprattutto scaricare gli eserciziari i brani e tutte le cose che carichiamo e poi il livello crew nel quale avrai video in anteprima e parteciperai anche alla scelta dei materiali da produrre da realizzare il materiale come dicevo all'inizio di questo video già caricato continuerà a restare caricato continueranno ad esserci delle cose sul canale quindi è una scelta assolutamente libera non vincolante come ci mancherebbe altro ma che può aiutare il canale a continuare a crescere il gabriele mediotto a continuare a lavorare in un certo modo e soprattutto voi utenti tu che decidi di partecipare in un certo modo ad avere un po on demand no possiamo dirla così il materiale che più ti interessa questo perché perché è importante assolutamente salvaguardare il lavoro di divulgazione chiamiamola gratuita che viene fatta perché fa parte della stessa del stesso concetto che sta dietro all'idea di divulgazione almeno secondo me però è altrettanto importante dare valore al lavoro che viene fatto e dare valore alla qualità di un certo tipo di lavoro online ci sono c'è la possibilità tu hai la possibilità di comparare di verificare e di mettere in relazione i contenuti gli stessi contenuti che spesso puoi trovare su diverse piattaforme quindi chi meglio di te può decidere quale è la forma migliore per la tua comprensione di uno stesso contenuto questo cosa vuol dire vuol dire che nella musica questo lo dico molto spesso gli argomenti non sono poi così tanti ciò che cambia è la modalità di esporre di raccontare di spiegare di porre all'attenzione di qualcun altro quegli argomenti questo canale il canale nel che stai guardando il video che stai guardando ha proprio quell'obiettivo quello di mettere in condizione chi guarda di comprendere in maniera semplice che sia un amatore o che sia un professionista per questo motivo c'è tanta attenzione noi per lo meno ci mettiamo tanta attenzione nel cercare di creare contenuti di un certo tipo di qualità ti invito quindi a valutare la possibilità qualora fosse di tuo interesse di abbonarti a questo canale di sostenere in maniera diversa e ancora più concreta questo canale attraverso una delle tre opzioni il livello fan il livello musico oppure il livello crew spero di essere stato sufficientemente chiaro qualora tu avessi dei dubbi non fai altro che contattarmi che scrivermi sai che riceverai questi messaggi ci vediamo comunque se ti va e se ti fa piacere alla prossima diretta qui sul canale o sui prossimi video che saranno pubblicati qualora tu decidessi di invece abbonarti di sostenere il canale maniera diversa ti ringrazio fin d'ora per questa attenzione che vorrai avere e che potrai decidere in qualsiasi momento insomma di sospendere senza nessuna difficoltà ti ringrazio per aver guardato questo video ti do appuntamento alla prossima occasione e ti auguro buona musica ciao